il concorso nazionale canoro artisti in vetrina 7.000 euro di monte premi borse di studio masterclass e molto altro ancora in giuria platinet e direttamente da amici fabrizio palma iscriviti entro il 16 ottobre info e regolamento presso www.artistinvetrina.it o presso il centro commerciale torri d'europa artisti in vetrina dodicesima edizione non farti scappare questa occasione